we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi abbiamo un bel po di novità per quello che riguarda questa settimana di fortnite ma anche quello che è capitato purtroppo alle qualifiche delle fn cs vedremo anche alcuni dettagli su ciò che sta per accadere e cercheremo di approfondire un argomento molto molto interessante sui custom matchmaking prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto se la trovo di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora andiamo direttamente al primo argomento di oggi che è più una domanda che un argomento oramai sono già due giorni che abbiamo finalmente il piacere di poter esplorare con tranquillità il nuovo posto la nuova location che non si chiama più carl ma si chiama castello corallo in italiano e la domanda che volevo semplicemente farvi è come vi sembra questa nuova location io ho avuto purtroppo pochissimo tempo per esplorarla con con tranquillità ma devo dire che mi piace tantissimo ha dato quello spunto che non c'entra niente con la mappa ma che secondo me ci stava anche perché non è poi così tanto frequentata a parte le due o tre cose che devono ancora fare i giocatori e quindi esplorarla volevo semplicemente sapere il vostro punto di vista ha fatto bene epi games a inserire questa location e soprattutto vi piace fatemelo sapere qua sotto nei commenti perché ci tengo abbastanza e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché è una cosa molto importante per tutti quelli che sono riusciti a vincere la galaxy scout nel torneo galaxy che si è svolto il 25 e 26 luglio voglio darvi una bella notizia che ci arriva direttamente da un leakers spagnolo che dice los giocadores che ganarò la skin galaxy e nel torneo recibirà la mojila in un futuro cercano vuol dire tradotto tutti i giocatori che hanno vinto la galaxy scout nella coppa galaxy riceveranno gratuitamente nei prossimi giorni anche il backpack questo mi porta a pensare appunto che non era incluso nei premi per chi fosse arrivato tra i primi 10.000 in europa tra l'altro volevo anche ricordarvi una cosa davvero importante il bundle galaxy non resterà ancora tantissimo nello shop e molto probabilmente quasi certamente non lo rivedremo mai più quindi ragazzi approfittatene non perdete tempo se volete prendere qualcosa del set o la skin affrettatevi perché potrebbe andare via da un momento all'altro e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questa è una schermata davvero interessante che sta facendo il giro di reddit e che ha ricevuto talmente tante condivisioni che non può non essere arrivata a chi controlla nello staff di epi games tutto quello che riguarda fortnite sui vari forum più importanti al mondo ed è una schermata di caricamento ed è una schermata iniziale che potrebbe essere utilizzata per personalizzare i custom game quindi tutti quelli che hanno il la possibilità di inserire e di giocare i match personalizzati potrebbero anche avere questa serie di opzioni la prima no dealing damage to the player quindi vorrebbe dire che noi dentro qua possiamo avere una lista di giocatori che fanno parte del nostro server e non subirà non subire danni quindi potrebbe essere fatto per chi magari sta facendo allenamento o per chi magari appunto non è bravo come altri giocatori e quindi si può ridurre o addirittura azzerare il tot di danni che il giocatore può prendere no killing ad esempio quindi un server dove non ci si possa killare shields empty shields oppure full shield quindi iniziare tutti ad esempio scudati oppure normalmente senza scudo stesso discorso anche per la salute e soprattutto storm disable quindi giocare una mappa senza la tempesta fall damage è un'altra cosa molto interessante prendere o non prendere i danni da caduta e soprattutto gravity quindi giocare con una gravità normale oppure giocare tutta la partita con la gravità ridotta come lo abbiamo visto fare in alcune modalità ad esempio oppure come l'abbiamo visto fare con le pietre quelle della tempesta in poche parole quindi davvero carina questa serie di opzioni speriamo che epi games prende in considerazione questo post e magari inserisca l'opzione nei server privati e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questa immagine forse non vi dirà molto ma in realtà è una cosa davvero particolare è un bug che purtroppo accade e succede tuttora nella nuova location quindi nel coral castle questo bug vi permette di oltrepassare il muro d'acqua la cascata quella che un po delimita diciamo i confini di questa nuova città voglio farvi vedere in questo spezzone video ragazzi come si fa per farlo con la barca basta semplicemente andare sul muro d'acqua fermarsi e come per magia ragazzi la barca lo attraversa e voi vi troverete belli freschi belli freschi dietro la cascata e non credo che possiate essere hittati non ho idea se possiate hittare una volta si utilizzavano i bug quelli per andare sotto la mappa allora parlo del primo capitolo di fortnite mentre adesso abbiamo questi bug direttamente con la barchetta quindi se qualcuno vuole provare a farlo sappiate che non è proprio una cosa legita al cento per cento da fare però potete provarlo senza dar fastidio ad altri giocatori e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché è l'ultimo in realtà argomento di oggi visto che le info non ce ne sono tantissime ma siamo fiduciosi che arriverà la patch 13.40 domani o dopo domani anche perché non abbiamo le sfide della settimana numero 8 quindi devono per forza patchare e aia incrociamo le dita potrebbero arrivare anche i veicoli non lo so non lo so ma in teoria non ci sono più patch dopo la 13.40 ufficialmente dopo la 13.40 si passa direttamente alla patch 14.00 prevista per il 27 agosto il che però è un po strano perché vorrebbe dire stare tre settimane senza aggiornamenti ed è veramente follia pura da pensare staremo a vedere ma volevo invece parlarvi di questa immagine il tuo account è stato bannato questo ovviamente quello che state leggendo tutti ed è la sanzione a cui stanno per andare incontro molti giocatori che hanno partecipato ieri alle qualifiche della ccfn quelle che abbiamo visto e che abbiamo fatto anche noi in live su twitch che cosa è successo alcuni streamer grossi quindi di un certo peso hanno cercato e cominciato a monitorare dei giocatori che sembravano un pochettino sospetti è venuto fuori ragazzi che tanti giocatori ma proprio tanti hanno l'andato per sette partite su sette non chiedetemi come sia possibile che siano riusciti a farlo nella stessa location volutamente non hanno fightato tra di loro e ovviamente si sono avvantaggiati portandosi fino all'end game dei match che hanno fatto questa cosa ovviamente non è tollerabile assolutamente io l'ho scritto anche su instagram ieri quando ho scoperto questa notizia è un insulto alle persone che vogliono innanzitutto giocare competitive e su un gioco che appunto dà la possibilità di vincere dei soldi con la modalità competitive io vi ricordo sempre ragazzi che fortnite è un gioco gratuito e mettere in palio così tanti soldi per un gioco totalmente gratuito è una cosa che non si era davvero mai vista quindi io stesso che non ho assolutamente una chance che sia una di giocare competitive sono completamente in disaccordo con tutto quello che hanno fatto questi giocatori perché hanno insultato il competitive in generale hanno preso per in giro le migliaia di giocatori che invece hanno voluto giocare correttamente cercando di piazzarsi spero vivamente che epic games riceva le lamentele di questi grandi streamer che hanno avuto la pazienza di controllare tutte le partite e che possano prendere dei provvedimenti anche con il permaban perché questa cosa secondo me non è assolutamente tollerabile dato questo ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche oggi il video news vi ricordo di non dimenticare un bel pollicione in su lasciate il like ragazzi iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao sento che mancano i secondi per arrivare ai dieci minuti devo monetizzare sempre altrimenti chi la sente e siamo arrivati alla fine un bacione un abbraccione sento che 승ini sento che